Siamo qui a Santa Veneranda in via Bonini, ci troviamo di fronte allo studio del dottor Lamberto Roberti, del costituzionalista, così lui si definisce. Siamo andati a sentire cosa ne pensa a proposito della vicenda del ragazzo sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Arriviamo nel suo studio e troviamo la chiave sulla porta. Questa è la casa della Costituzione, dichiara di fronte alle telecamere di Fano TV, siete i benvenuti. Il giurista Lamberto Roberti, conosciuto anche per essere un chiaro attivista no mask, ci fa accomodare e lui l'uomo dietro le quinte, collegato in qualche modo alla vicenda del ragazzo fanese sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Lamberti conosce bene il giovane che più volte ha ospitato dentro casa sua durante gli incontri dedicati alla Costituzione. Diciamo che per questo ragazzo ero il costituzionalista perché io ho qui tutti i sabati per mesi, ho fatto conversazioni sulla Costituzione al mattino alle 10 e il pomeriggio alle 16 di tutti i sabati per tutte le persone del gruppo. Lui veniva però in libertà, stava a pranzo con me eccetera, quindi proprio argomentava. Quando ho conosciuto il ragazzo? Il 6 febbraio noi abbiamo avuto una manifestazione davanti al teatro Rossini e lì è arrivato questo ragazzo in bicicletta, ha fatto una ventina di chilometri e quindi con il saccappello. Fra l'altro era freddo, ancora c'erano gelate il 6 febbraio e lui stava chiedendo dove era il parco Miralfiori per dormire all'agghiaccio, praticamente nel saccappello. Ci siamo guardati un po' con noi responsabili e alla fine è deciso, va bene, io siccome per normalità, la mia normalità è ospitare. Io anche in questo momento ho due ospiti, homeless, persone che non hanno un luogo dove dormire. Per me è naturale, è normale, infatti questo ragazzo mise in macchina la bicicletta e poi siamo venuti qui. Ha steso il sacco a pelo sopra il letto matrimoniale dell'altra stanza e lì ha dormito. Lei in questo momento in che rapporto è con il ragazzo e con i suoi genitori e che idea si è fatto sulla vicenda? È stato accusato di averlo pragiato con le sue teorie negazioniste. Dove sta la verità? Io non sono un negazionista, sono un giurista. Con il ragazzo ho sempre avuto un ottimo rapporto, un bravissimo nipote, ne ho uno di 22 anni e lui ne aveva 18. Veniva ma non aveva meno di 10 domande ogni volta che veniva. Era un ragazzo che chiede in continuazione, uno spirito libero e intelligente. In particolare cercava di risolvere questo problema dell'obbligo della mascherina a scuola. Quando ricevette questa DAD obbligatoria perché non voleva portare la mascherina, io lo consigliai di fare un'attività, un'istanza al giudice tutelare per il ripristino delle sue libertà fondamentali. E così fece, impiegò 15-20 giorni per studiare il tutto. È vero che la madre del ragazzo le ha detto che il TSO dovevano farlo a lei e gli hanno chiesto i genitori di allontanarsi dal ragazzo, è vero? Sì, è vero, ma dobbiamo prendere questa notizia come carpita da qualche cosa di così interno. Anche quando in queste telefonate amichevole con la madre era un po' una battuta. Ecco, così, perché poi abbiamo, non è che in modo cattivo, abbiamo parlato un quarto d'ora, no? E di queste cose dice, ma sì, dovevamo farlo a te il TSO, no? Abbiamo riso, no? Abbiamo riso, quindi... Quindi lei con i genitori ha in ottimi rapporti in questo momento? Non so, in ottimi forse no, ma in buoni sì, nel senso che ci siamo sentiti anche ieri e quindi sono stati qui da me giornate intere. Perché io chiesi, dopo aver conosciuto il ragazzo per un mese, dopo che facemmo anche questi atti, una certa fragilità l'avevo, sono anche un mediatore familiare, e ho chiesto dei genitori. Dopo alcune volte, ecco, sono, si sono presentati, abbiamo conosciuto, sono stati fino alle 10, no? Tutta la giornata, così, più volte.